Il libro di questa settimana è Lincoln Elbardo di George Saunders. Questo libro ha appena vinto il Man Booker Prize, avevo detto qualche settimana fa che Exit West di Moshina Mead rischiava di vincere, in realtà ha vinto lui. Lincoln Elbardo è in effetti un libro stranissimo, è un libro che io consiglio in particolare ai lettori forti, perché se voi siete abituati a leggere pochi libri durante l'anno, dei libri molto semplici, molto lineari, questo è un libro veramente molto strano che potrebbe costarvi molta fatica. Se voi conoscete un po' la letteratura americana, questo non c'entra niente. Forse l'unico padre che possiamo ritrovare è l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, in cui si parla dei morti, perché in realtà i protagonisti di questo libro sono i morti. È ambientato nel 1862, a un anno dall'inizio della guerra, Abraham Lincoln è presidente, suo figlio di 11 anni muore. Questo getta i genitori in una situazione, in una condizione tragica, ma questo bambino non riesce a superare il bardo, rimane in questa terra di mezzo, tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, perché non ha realizzato di essere morto. Insieme a lui ci sono tantissimi personaggi stranissimi, particolarissimi. Quello che accade è che questo bambino riesce, ve lo dico perché è anche nella bandella, riesce a trovare un contatto con il padre, che potrebbe aiutarlo a realizzare il fatto di essere morto. È un libro strano, appunto, perché dà voce ai morti, ed è qualcosa di insolito per la letteratura americana, perché la letteratura americana statunitense non ha, non affonda le radici nell'antichità, come tantissime altre culture in tante altre parti del mondo, perché la vera cultura americana antica è stata completamente distrutta. Ma quello che fa è raccontare questo, raccontare forse questo vuoto. La mia sensazione è che l'autore sia riuscito a intercettare, finalmente, qualcosa che non era ancora possibile raccontare. Cioè, che cosa succede agli americani quando muoiono? Questa è una specie di libro americano dei morti. Esiste già un libro che si chiama Il libro americano dei morti, e nasce proprio per questa ragione. Perché una cultura così moderna non ha delle ritualità e non ha un accompagnamento al morente. La cosa molto strana del libro è che è una specie di testo teatrale, di poema. L'autore in realtà non parla mai, non esiste un narratore. Parla o attraverso quello che viene detto da alcuni saggi o alcune lettere scritte, proprio nel tempo di Lincoln, che raccontano alcuni episodi in particolare o della personalità di Lincoln, a volte gli vanno molto contro, oppure parla attraverso i personaggi. Quindi quello che voi vedete sono i dialoghi tra questi personaggi, questi personaggi che parlano. È come se l'autore avesse voluto farsi da parte per fare in modo che il bardo americano venisse fuori. È un libro strano, è un libro veramente insolito per la letteratura americana, ed è un libro che è stato accolto dalla critica e dal pubblico in una maniera straordinaria rispetto alle tre raccolti di racconti precedenti dell'autore, proprio perché è un libro che probabilmente intercetta qualcosa che doveva essere raccontato. E per queste ragioni l'ho scelto come libro della settimana.